Tu fai sta cosa, cioè, per me è una rottura di scatole invece enorme il fatto di metterti Lì, tu lo sai, io ho un assistente che si occupa, è anche Federica, ma in questa cosa non è Federica Che mi monta i video, viene a casa mia, mi fa le riprese, mi monta i video, me li mette su Facebook, me li mette su YouTube Mette su Instagram, io non ne voglio sapere, cioè io non ce la posso fare E tu invece ti metti lì, ti fai il video, ti riprendi, ti monti, ti monti, potrebbe essere un po' strano come cosa Ermafroditismo E ti metti su Instagram e poi ti monti in un modo diverso e ti metti su YouTube No, sì, più o meno, più o meno lo faccio così Ma ti piace farlo? No No, 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 lo faccio, sì, un po' mi piace, nel senso che io Sono nato su internet, la mia prima esperienza internetosa è stata perché lavoravo per un'associazione Nel 2006 E il tipo dell'associazione mi ha detto, ascolta, il tuo incarico è fare marketing su internet E allora io mi sono messo lì, ma nel 2006 fare marketing su internet era una roba da ingegneria, astronomica Una roba impossibile, devi conoscere l'HTML, il keyword Cioè, riuscire a fare una pagina internet è una roba Rispetto a quello, montare le storie di Instagram è un gioco da ragazzi Cioè, quindi io arrivo da quel background, nel 2007 ho aperto il mio bloghetto Psicologia neurolinguistica Esatto, psine mescolando insieme Che oggi è psine Che oggi è psine la psicologia con la PNL che allora era il mio amore di quel periodo lì E lì è stata tutta una scuola, nel 2007 scrivevo solo articoli, nel 2009 mi viene l'idea di trasformare gli articoli in audio La chiamo audio newsletter e nel 2014 quell'audio newsletter diventa un podcast Fantastico Non appena c'è la possibilità di trasformare questa cosa qua con Spreaker Che è una roba che noi gli facciamo pubblicità perché nell'ultima assistenza non sono stati molto simpatici Però con Spreaker mi dà la possibilità di creare un podcast e da lì nasce questo Il podcast più seguito in Italia sulla psicologia Esatto Però non ti piace fare il montaggio? No, è noiosissimo È dovere È dovere, ma io sono molto ossessivo come tu dicevi prima All'inizio è dovere, poi quando entra l'ossessione è quasi piacevole Perché mi consente di mettermi lì, poi ogni tanto mi piace riguardarmi più che riascoltarmi Ormai riascoltarmi sono… c'è un'insofferenza nel riascoltarmi Tutte le settimane sono lì, ascolto mezz'ora di miei audio dove io parlo Ah beh perché ti devi montare per questo Esatto, sono lì, faccio l'editing al mio podcast e riascoltarmi è una piccola tortura Ho provato, ho pagato una ragazza per sei mesi per fare il montaggio dei miei podcast Ma non ce la faccio Non ce la faccio perché quando lo riascolto devo rieditarlo Ah ok Ok, quindi alla fine ho… Perché la PNL non è più il tuo amore? Non è più il mio amore perché io nasco… io incontro la PNL nel 2001 più o meno Al mio secondo anno di psicologia, quindi io studiavo psicologia dinamica avanzata e studiavo la PNL Quindi come se studiassi… esattamente… da un lato avevo il massimo della complessità nella psicodinamica Nell'altro lato avevo il massimo della banalizzazione della psicologia e non riuscivo a far collimare queste due cose Però succede una roba che io avevo sempre avuto paura dei fuochi d'artificio Ok, un po' di paura dei fuochi d'artificio E mentre leggo uno di questi libri di Bundler, faccio un gioco e mi passa Fantastico E io dico ma vabbè I miei professori mi diranno che sta roba è una cavolata Però su di me ha funzionato Allora il mio vicino di stanza perché io ero in una casa dello studente Ho fatto l'università in una casa dello studente Il mio vicino di stanza mi dice sai io ho paura dei coltelli E io dico vieni stanza da me gli faccio un giochino di PNL e gli passa anche a lui la paura dei coltelli E io dico allora c'è qualcosa Che non va Che non va esatto O sono io che sono mago oppure c'è qualcosa che funziona all'interno di questa struttura Così la studio, l'approfondisco, entro molto approfonditamente nel campo della PNL italiana Conosco molti degli autori americani in questo ambito Conosci di persona Di persona Conosco Steven Gilligan, Robert Diltz E non mi piace, non che non mi piacciono loro perché loro sono persone splendide Ma non mi piace il background che ci sta dietro Cioè le persone che portano questi esperti in Italia Mi accorgo che non sanno niente, che non capiscono niente e che ce l'hanno sempre con noi psicologi Senza considerare che quella roba lì è psicologia Cioè non è che la PNL non sia psicologia La PNL è il bignami della psicologia Quando loro dicono no ma noi l'abbiamo presa Cavolate Non è vero, quella roba lì è un po' di Milton Erickson, un po' di Fritz Persson Loro lo dicono, lo dichiarano apertamente Però cosa fanno loro? Quando fanno un corso dal vivo partono e dicono questa roba mica è da psicologi No, è da psicologi e come? E allora lì inizia un po' di attrito con la PNL Soprattutto quando studio il modello vero, Erickson Approfondendo Erickson mi accorgo che è una banalizzazione del modello ericksoniano, la PNL Anzi in certi casi è l'estremizzazione dell'aneddotica ericksoniana Per chi non lo sapesse Milton Erickson diventa famoso soprattutto per i racconti che vengono fatti su Milton Erickson E questi racconti sono già sopra le righe per loro La PNL li porta all'estremizzazione perché quello è il marketing Il marketing per vendere è raccontare che c'è stato quello lì che ha ridato la vista un cieco con una tecnica di PNL E sappiate che non ci sto andando lontano perché ci sono trainer anche italiani che raccontano di aver ridato la vista non tanto a ciechi ma persone che ci vedevano pochissimo e con una magia ipnotica sono tornati a vedere Fantastico Io non amo molto la PNL anche io Non l'ho mai amata molto C'è stato il periodo del wow cos'è sta roba Poi non lo so Avevo letto prima Pragmatica della comunicazione umana Milton Erickson le opere Le nuove vie dell'ipnosi di Ale Che non è proprio il più facile Poi anche terapie non comuni quello però Successivamente E mi sembrava anche come dici tu la banalizzazione Però c'è una cosa Bella no? Che Non so se voglio approfondirla Però l'idea È un argomento che a me stuzzica sempre L'idea del vai all'università Abbiamo in Italia una forte impostazione psicodinamica e cognitivista a seconda un po' del Anche sistemica a seconda un po' delle aree geografiche E Arriva la tecnica di PNL potrebbe essere di chissà che cosa Che in In una seduta in sette minuti ti risolve Poi non sempre però in alcune situazioni Anche la fobia specifica E no non è vero non funziona Allora non era veramente una fobia specifica no? Perché se la risolta è in sette Perché da definizione in natura la fobia specifica si risolve in sette sedute minimo no? Poi oggi ci sono in realtà Molte Molti Anche articoli di ricerca Cognitivo Comportamentali Sulle fobie specifiche risolti in una sola seduta Però beh ma era solo uno spunto in vita perché non volevo Chiedere questo ma Gennaro Romagnoli Io mi immagino PNL Ipnosi Non cronologicamente in generale PNL Ipnosi Meditazione Ah Sulla meditazione te lo chiedo dopo Perché La cosa che voglio sapere di più in realtà Perché io non so niente di meditazione Cioè so Ho praticato un po' di zazen Faccio un po' di meditazione ogni tanto Però non so niente di meditazione usata in psicoterapia Ok? Però te lo chiedo dopo Ipnosi Cioè tu Tu che fai coi pazienti? Usi l'ipnosi? Usi... Che fai? Che faccio? Cerco di capire come capisce Per essere molto semplice Capire come capisce Sì Capire come lui struttura il suo modello del mondo E cerco di Se noto che il problema è lì Nel problema del mondo Tipo la persona arriva e mi dice il mondo è tutto È uno schifo Perché è uno schifo perché nella società non c'è meritocrazia Allora io gli chiedo che cosa intendi per meritocrazia E inizio a distruggere, o meglio a decostruire per usare un termine più filosofico Quello che lui ha come rigido nella testa Da questo emergono delle metafore Diciamo questo è un modo molto più... Queste metafore io me le scrivo Metafore che fa uscire fuori lui? Che dice il paziente Ok E le uso nell'ipnosi Ok Ecco questo è più o meno un modo molto banale Quindi tu che cosa fai? Parli con la persona Cerchi di capire come vede il mondo Cioè ti immagini proprio Ti fai delle frasi che poi Sono rappresentative del suo modo di vedere le cose E immagino anche di comportarsi Escono fuori delle metafore Cioè la persona utilizza come utilizziamo nel linguaggio di tutti i giorni Dei modi metaforici di descrivere alcune cose Scusa prima di fare questo tu Con le domande decostruisci quelle che magari in PNL erano La generalizzazione, la distorsione Diciamo così Ok vai a Indagare per Odio tutti Tutti Beh non tutti Gli uomini Tutti gli uomini Beh non tutti gli uomini I banchieri Tu arrivi a destrutturare in questo senso Ma poi odi Non è che li odio Non mi sono andato perché alla fine Non mi hanno dato l'assegno Il finanziamento L'assegno Escono fuori delle metafore Poi transipnotica Cioè li metti in trans Non sempre Non sempre Non sempre Perché delle volte Ritengo che sia Inutile O pericoloso Utilizzare la transipnotica Ok Con persone particolarmente Sbarellate Diciamo così Ok Persone particolarmente dissociate Già nel loro racconto Già in quello che Quando sono particolarmente dissociate Non uso l'ipnosi esplicita Diciamo così Formale Conversazionale Un po' conversazionale Soprattutto rivolta A far emergere Le loro tentate soluzioni Le eccezioni Le risorse Quindi quando non uso Il modello ipnotico Uso un modello più simile Al vostro E poi da lì Cerco di Mentre il paziente parla Mi immagino Che cosa potrei fargli fare A casa Perché anche Questo è molto importante Per me Dargli dei compiti Da fare a casa Che sono sempre Un po' diversi Ma che ricalchino La scuola La scuola La strategica Focus Eccetera E poi La mia idea Molto In linea Con la terapia A seduta singola È che Non potremmo mai più Rivederci Ok E quindi Io glielo dico Anche al paziente Io glielo dico Esplicitamente Questa potrebbe essere La nostra ultima seduta Che è anche Uno stile ipnotico Perché potrebbe essere L'ultima seduta Perché tu guarisci oggi Certo Non necessariamente Perché Non tornerai in seduta Carino Allora uso questo giochino E ci gioca E lo vedo subito Quello che dice No 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 ma dottore Ma io torno eh Spaventato No no ma io Ti togli E in questo modo E in questo modo Negli anni Senza farlo a posto Ho creato Un modo Per capire Intanto se torna In modo molto banale E poi A delle volte Funziona davvero In pochi In meno sedute Di quanto Dovrebbe Tra virgolette Accadere Anche perché delle volte Avendo Molto seguito Su internet La persona Arriva dalla Sardegna Non è che poi posso Chiaro Cioè non è che poi posso Rivederla davvero tante volte E quindi Questo Due domande Questo di dirgli Potrebbe essere Una ultima seduta Riusci solo in prima seduta O in altre sedute anche Quasi in tutte le sedute Quasi in tutte le sedute Quasi in tutte le sedute Ok certo punto diranno E basta Ho capito E basta Qualcuno me lo dice Dottore questa È la mia peggiore fantasia Per cui non me lo ripeto Per piacere Pensavo che ti dicessero Dottore questa potrebbe essere La mia ultima seduta No no però Carino carino I tempi come Come ti li gestisci tu? All'interno dell'ora Cioè ti dai un'ora Ti dai Allora io sono molto prolisso Per cui Delle volte Se io ho un'ora di tempo Me la prendo tutta Ok Se ho due ore di tempo Posso anche sconfinare Tranquillamente nell'ora e mezza dopo Ok Ieri è venuta una sportiva È diverso È una super campionessa Per cui ci tengo particolarmente Che il lavoro funzioni Avevamo un'ora E' stata tre Perché non avevo nessuno Nel pomeriggio Ho tenuto il pomeriggio Solo per lei Certo Lei è venuta dall'estero Ha preso l'aereo E' arrivata Per fare la seduta Mi sembrava anche brutto Farle un'oretta Tra virgolette Quindi Ammettiamo che sia un'ora In quell'ora di tempo Io faccio All'inizio Se è la prima volta Che ci conosciamo Ti chiedo Perché sei qua Cosa ci fai qua Ti chiedo Che cosa ti aspetti Da quello che sto per fare Poi molte volte Per tirare fuori gli obiettivi Faccio la domanda Della bacchetta magica Se avessi una bacchetta magica Immagina domani Esci di qua Stai bene Raccontami la tua giornata E poi da questa cosa qua Emergono tutte le Quello che ho capito In questi anni E' che io devo restare sul pezzo Perché io tendo a divagare Ok E quindi Faccio molta fatica A restare sul pezzo Quindi Mi faccio degli asterischi Quando ci riesco Cioè io ho un quadernetto Ti dai il rinforzo positivo Esatto bravo Io ho un quadernetto Il mio quadernetto E' fatto così Non c'è scritto quello Che mi dice il paziente Ho scritto tre cose Le prescrizioni Gli eventuali traumi Molto forti Perché effettivamente Se trovo un trauma Principale E lo tratto Può funzionare anche In pochissime sedute Uso l'MDR Qualsiasi tecnica Anche la PNL Funziona benissimo L'MDR è similissima Alla PNL E TR E metafore Queste sono le mie tre PR Prescrizione TR E MET Queste sono le tre cose In più faccio degli asterischi Tutte le volte che mi accorgo Che riesco a restare sul pezzo Che mi sono Questa è una sorta di meditazione All'interno della seduta Quindi eh Ok sono sul pezzo Bravo 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 Esatto Se non ci sono asterischi Vuol dire che ho parlato di tutt'altro Carino 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 Simpatico Ok Mi sono molto più Ossessivo Stranamente Questo Abbiamo fatto anche un Per te la PNL Abbiamo fatto Un flow chart Un diagramma di flusso No? E spesso ce l'ho in mente Devo fare questo Questo Però non sono così ossessivo in realtà Anche prendendo spunto da Federico Mi sono un po' Un po' Molto Molto Deossessivizzato Perché se rimani in quello no? Ti perdi il paziente Ehm Però c'è una cosa sui tempi no? Milton Erickson era famoso perché Faceva A volte anche Dei ipnosi da quattro ore Da sedici ore Cioè 2019 è impossibile Cioè non Certo non campi No Da un certo punto di vista Ma poi anche magari il Il ritmo con cui viviamo Le cose no? E Tuo commento su questo Una volta chiesti questa cosa A un A un collega Ipnoterapeuta Lui mi disse Questa è la questione del Ma Erickson Era ericksoniano? Eh sì Io in verità la metto con Erickson Ericksoniano Sono gli ericksoniani Che non sono ericksoniani Eh sì Ok Allora io Io credo che Innanzitutto Erickson Viveva in un In un periodo storico In cui C'era un cavolo da fare Bravissimo In texas poi In texas Erickson veniva pagato Che lui Facesse le pulizie O che stesse quattro ore Col paziente Veniva allo stesso E quelle sperimentazioni Di quattro ore Le faceva casualmente In ospedale Mica a casa sua E quando le faceva a casa sua Lui andava fuori a fare giardinaggio Mentre il tipo Era dentro in trance Cioè quindi lui Non perdeva mai tempo Quindi Genio Perché o lo faceva lui Giardinaggio O il paziente Faceva giardinaggio Per lui Ci abbiamo capito Sempre casa sporca E poi credo che Queste storie Portino i nostri colleghi A credere che la transipnotica Sia uno stato magico In cui Io ti metto Tu diventi cose aperto Che ci butto dentro Quello che voglio Chiudo E me ne vado a casa Ma non è così Cioè se tu riesci a impacchettare Come direbbe Zygo Oggi Che lui dice Creare il pacchetto Di impacchettare per bene Il tuo messaggio Non hai bisogno Di 40 minuti di transipnotica Per farlo arrivare Hai bisogno solo Che la persona Sia particolarmente predisposta Ad accogliere Quel tipo di messaggio E il lavoro di Ericsson Era tutto intorno a questo Era la sua disseminazione Era tutto orientato a Far sì che il paziente Andasse a casa E pensasse a quella cosa lì Fondamentalmente Che in alcuni casi Per entrare in collegamento Con la parte strategica Era per fargli fare delle cose Oppure per fargli pensare delle cose E secondo me Noi quando pensiamo all'ipnosi Invece pensiamo sempre A questa cosa qua Io ho bisogno di tre ore Come Ericsson Così ti mando in uno stato magico In cui ti dico quello che voglio Ma questo è illusorio Mi piace tantissimo Devo predisporre la persona Come lavori Cosa ne pensi E come lavori Con la Pura di aprire un mondo Con la resistenza Che ne pensi Del concetto di resistenza E come ci lavori Allora Onestamente Io non vedo mai Questo Non la vedo mai Non la vedo mai Ma non è perché Forse per formazione Ma non la vedo mai Come Io la vedo come Al massimo La vedo come Non mi è simpatico il paziente Ah Quindi come una cosa tua È come una roba mia È una roba mia Non è un paziente Che non cambia Ma mi sta sulle palle E non riesco a E questo Perché sono fatto così Non è una tecnica Non è una tecnica Io lo sento E glielo dico delle volte Dico Mi sembra che Stiamo litigando Ogni tanto dico Mi sembra che stiamo litigando Io e te E delle volte Colgo l'apertore E dice È vero Anche io Ho questa sensazione Di stare litigando E da quel momento in poi Se quella Era una resistenza Si abbassa un po' O comunque Delle volte Svanisce Ma io Non vedo mai La resistenza Vedo sempre Ho preparato male Io qualcosa O lui Non è pronto Per questa cosa qui Ma non perché C'è dentro Una rimozione Un evitamento Perché tutti rimuoviamo Tutti evitiamo Tutti quando arriviamo Su quella cosa lì Cerchiamo di svincolare Di cambiare l'argomento E quello che arriva E dice Guarda io ascolto Tutti i tuoi podcast Ti seguo da anni Adesso dimmi quello che vuoi Che guarisco Non guarisce così facilmente Cioè L'effetto autorità Che tutti cercano Per me Non funziona così bene Almeno Nella mia esperienza Non funziona così bene La mia visione della resistenza È cambiata totalmente Il momento in cui ho letto Un articolo di The Shazer Che peraltro si rifà Esplicitamente Lo dice a Erickson Erickson diceva Resistenza È un modo di Porsi Di collaborare Diciamo Della persona Non so se usava proprio questo termine The Shazer Nell'articolo La morte della resistenza Che è un casino Complicatissimo Però molto interessante Usa la parola collaborazione Cioè Se ti vedi un paziente Resistente Che non ti fa i compiti Che ti dice Non lo so Che fa boh Lui ti sta dicendo Almeno io così Me lo figuro Genna io così Non posso collaborare Tu mi dici Fai questo compito Non te lo faccio Io così non posso collaborare Tu mi dici una cosa Si dico boh Non lo so Ti sto dicendo Io così non posso collaborare È fantastico Perché Io leggo proprio Come se ascoltassi La persona che mi dice questo E quindi se me lo dicesse esplicitamente Io direi Ok andiamo da un'altra parte Ed effettivamente Ma io non gli dico Ok vabbè andiamo da un'altra parte Perché se no Sarei seguendo il mio dialogo interno La persona mi prenderebbe per pazzo Però vado da un'altra parte Lascio perdere Ok andiamo Dopo di qua Anche se poi Questo è poi Un discorso più ampio Perché Per me i costrutti Devono stare al tuo servizio Quindi a volte Il costrutto di resistenza Mi è utile Lo utilizzo Perché magari Mi pongo sempre Nella posizione ericksoniana Del prescrivere La resistenza Perché in quel momento Mi è utile con quella persona Allora mi torna utile Il costrutto di resistenza Però Non affrontiamo questo Anche se è interessantissimo Perché ti voglio chiedere invece Che ci fai con la meditazione In terapia Che fai Come la usi Come funziona La uso io La faccio io Non la faccio io Non la faccio fare ai pazienti La faccio fare poco ai pazienti La meditazione La faccio fare solo a quelli Che stanno particolarmente bene Perché per me Non è uno strumento terapeutico Non è uno strumento clinico La meditazione Ok O meglio Lo è Ma solo alcuni pezzi Della meditazione In particolare Per essere proprio espliciti La parte dell'act Che è un tipo di psicoterapia Che quindi Non è tanto meditativa Ma è tanto di insegnare al paziente A dirgli Sto pensando a questo Invece di dire Sono in balia di questo pensiero Per essere Un po' didascalici Da questo punto di vista Quindi Per me La meditazione È restare lì Con il paziente È restare lì Insieme al paziente E non Sfuggire via con la testa Non andare a pensare ad altro E quando vado a pensare ad altro Tornare sempre lì Non in modo ossessivo Perché questo è Il segreto Per meditare È che quando Io mi accorgo Che non sono più lì Sul pezzo Torno gentilmente Nel presente Questo Ti dici qualcosa Non mi dico niente E ci torno E ci torno E gentilmente Intendo che sono molto Morbido Nel tornare Non è che penso Cavolo Cosa sto facendo Non sto più qua in terapia Devo tornare qua Perché questa cosa qua In realtà Fa nascere una spirale Di giudizi Che mi porta ancora più lontano Dal paziente Interessante Invece cerco di restare lì E delle volte magari glielo dico Mi sono perso Mi sono perso E io ho un'altra strategia Per ovviare questa cosa Mi sposto nella stanza Cioè inizio la terapia Io ho fatto per anni la terapia Allora io ho iniziato a fare il terapeuta Dentro una palestra Ok Quindi ero dentro una palestra Quindi c'era queste sedioline di plastica Uno davanti all'altro Andava benissimo Poi sono finito in uno studio più figo Con la scrivania Andava un po' peggio Quindi ogni tanto esco fuori E dalla scrivania mi metto davanti al paziente Adesso inizio dalla scrivania Tutti alzi, disposti Inizio dalla scrivania Così siamo davanti C'è la scrivania Se vedo che continuo a perdermi Gli dico scusi posso Alzo la sedia Che tra l'altro pesa 200 kg Come quella lì Alzo la sedia L'appoggio E mi siedo davanti a lui Più o meno così Senza scrivania Senza scrivania Senza dirgli perché Per come Eccetera Poi in realtà Quando qualcuno mi dice perché Gli dico perché poi Ti invito a sederti sulla Poang Che è la sedia dell'Ikea Facciamo la pubblicità dell'Ikea Dove faccio la transipnotica Tra virgolette Carino Che bellissimo Bello bello Come usi lo spazio Al servizio del tuo modo Di fare terapia Mi sposto tantissimo Fantastico E questo mi aiuta Sempre con questo processo Perché la meditazione La presenza è fisica Non è una roba mentale Non è una presenza mentale Presenza mentale Io sono sempre un po' spaventato Però la presenza è La temperatura dei vostri piedi In questo momento Non è quello che pensate Dei vostri piedi In questo momento Che sembra la stessa roba Ma non è proprio la stessa roba E a me serve tanto questa cosa Poi a qualcuno gli do Tra la prescrizione Se trovo qualcuno Che è particolarmente predisposto Gli dico Vai a casa Fai i 20 respiri al giorno Meditativi Ma non è meditazione di per sé È un esercizio Che gli serve per Iniziare a scorporare Quello che pensa Da quello che sente Ecco Penso di essere un po' in trance Ok Adesso Adesso Grande Allora Ti farei altri 7 milioni di domande Ma Il tempo è tiranno Però Ritorniamo un attimo all'inizio Perché tu non fai solo lo psicoterapeuta Ma fai anche Come si Quello che vendi Il divulgatore Il divulgatore Però tu vendi anche gli infoprodotti Sì Su Sua meditazione Mi pare Hai un gruppo? Anche? Ho un gruppo di meditazione Un gruppo facebook Sì Meditazione Vendevi cose Vende Vendi cose Vendi cose Vendi cose Il mio editore le vende Però io ho questa fortuna di avere un editore che le vende Anche se le vende a mio nome Ok Cioè la gente non lo sa ma la maggior parte dei messaggi che arrivano a mio nome Non sono io che li mando Tra virgolette Questo mi aiuta molto Fantastico Non so neanche qual è la domanda Però È bello questo Perché A me quando un collega mi dice Un collega Un ragazzo Che è finito ai superiori Mi dice Mi conviene studiare psicologia Perché In Italia Un terzo degli psicologi di tutta Europa Un quarto di tutto il mondo Siamo tanti Io dico Se ti piace sì Perché se ti piace Ti ingegni e trovi i modi per Per lavorare Che sono Uno Io Per te solo clinica Adesso beh la formazione da qualche anno Con la scuola Eccetera Però la clinica è la cosa principale Per niente Cavolo di voglia Entrimi a fare infoprodotti Se lo dicevo prima Non ce la posso fare Ma arrivo un domani però Ora non ce la posso fare Quindi si può fare anche solo clinica Ma si può declinare in tanti altri modi Tu vedi Luca Vedi Jerry Vedi Bernardo Eccetera Com'è sta roba? Cioè Come te la vivi? Come ti vivi tu? Non so qual è la domanda Dimmi qualcosa Di questo mondo E' bello E' bello Perché ti da modo di prendere fiato Dalla psicoterapia Che è bellissima Credo che non smetterò mai Di fare lo psicoterapeuta Perché è molto bello Ma è molto più bello Se non ne hai bisogno Se non hai bisogno Di quel paziente Che resti nel tuo studio Che non vada via Eccetera E quindi Io la vivo molto bene E poi per me è stato un processo Molto lungo Cioè nel senso Io inizio Faccio un corso di PNL nel 2001 Nel 2001 Il trainer del corso di PNL Mi dice Mi piaci Poi scopro perché mi piaccio Perché io non sapeva niente Ok Era una capra Era Non sapeva niente Quindi gli serviva uno Che conoscesse quelle cose Ok quindi Mi dice Vieni a fare i corsi con me Iniziamo a fare i corsi insieme Praticamente Quindi a tenere corsi Di queste robe qua Mentre Teniamo i corsi Lui mi dice Andiamo a fare un corso In un poliambulatorio Nel Mantovano E io Conosco La mia prima datrice di lavoro La proprietaria di questo poliambulatorio Che mi dice Guarda io ho dei pazienti Vieni a vederli Io ero appena laureato Praticamente Conoscevo solo le tecniche di PNL E io gli dico di sì Ora A parte la sfrontatezza Di dire di sì Così A 26 anni E vedere i pazienti Ma ci vuole Qualcuno mi diceva Oh ma vai fino a Mantova? Cioè da casa mia Allà sono 166 km andare 166 km a tornare Per arrivarci da Padova Allà in treno Ciao Tre treni Sono sempre in ritardo Tre ore di viaggio L'ho fatto per 11 anni Quando qualche giovane Mi dice Eh ma guarda che io Non ho voglia di andare Nel paesino fuori A fare Nel poliambulatorio Io penso E' per questo Che vi lamentate Che non c'è lavoro Cioè adesso Esagero un pochettino Però E' così Io per 11 anni Ho fatto 300 km a settimana Non tutti i giorni Ma Se dovessi fare una crasi Oggi mi piace la parola crasi L'ho usata anche prima Penso che Non mi è usata in vita Questa è figura retorica Che faccio fatica a ricordare A te mi piace come mi suona in bocca Crasi Se dovessimo fare Un mix Delle due cose Mi piace molto questo concetto Uno Seguire quello che ti piace Cioè anche tu però Riprendendo quello che ho appena detto Adesso Se non ti va di fare gli infrodotti Perché c'è stato un momento In cui dicevo Devo fare un infrodotto Lo fanno tutti Pure Romeo Lippi Fa il gruppo in Non so dove è Romeo Lo dovrò fare pure io Sto gruppo E invece poi a un certo punto ho detto A me non piace Non lo faccio Perché l'infrodotto Non lo sono portato avanti Per un anno e mezzo E non l'ho mai fatto Non mi piace Se devo guadagnare i soldi Devo trovarlo in un altro modo Fare se non vuole mi piace Aggiungendolo al Quello che appena hai detto tu Ti devi sacrificare Con te stesso Con la vita Cioè nel senso Devi farti tre ore di treno Per Undici anni Ma è ovvio che se ti fai tre ore di treno Per undici anni Perché fai una cosa che ti piace Poi ci andavo in macchina Ah in macchina Ok Però andare qua Su una piccola postilla Per andare nel Mantovano Rivarolo Mantovano Con la macchina Significa che su 50 volte che ci andavo all'anno 40 una nebbia Che non si vede da qui a lì Certo Ok quindi Sensi da ragno Ti credo che Io pensavo che andassi in treno E mi tornava tutto il discorso Dello studio Della meditazione Perché cazzo Fai in treno Un anno in treno Poi sono passato alla macchina Ok Però l'idea del Non è così Luca dice Mazzucca lì dice Devi ragionare da maratoneta Non da Da centometristi Se vuoi tutto è subito Non avremmo una scuola di specializzazione Ok 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 Ti faccio l'ultima domanda L'unica domanda L'hai sentita prima Stutturata Immagina che Hai degli psicologi Che ti ascoltano E gli vuoi dare un consiglio Su un esercizio da fare nella vita quotidiana Una strategia da mettere in atto Un compito Che gli possa tornare utile All'interno della psicoterapia Quindi fai questa cosa nella vita quotidiana Perché ti permetterà di allenare Una tua capacità Di raggiungere Un livello Utile poi nella psicoterapia Qual è l'esercizio? Imparare ad ascoltare Ok Come lo dovrebbero fare nella Tipo quando il tuo amico ti parla E tu ti stai rompendo le balle Dopo quanto tempo ti rompi le balle? Ok? Forzati ad ascoltarlo Forzati a mettere da parte quello che vorresti dirgli Forzati a non dirgli come la pensi Forzati a non dargli consigli Forzati a non cercare di cambiarlo Ascoltalo Perché molte volte il semplice ascolto provoca un cambiamento Ecco Questo è superfacente anche perché sai Qualche giorno fa stavo in giro con una persona Un amico Però ha parlato solo lui e solo di sé Era molto frustrante No? Perché Cioè ero lì con lui e io non potevo dire niente C'era solo lui E ci scordiamo come Questa relazione Questa relazione Quella relazione Non è molto diversa la relazione che tu hai con i clienti No? Se non sei in grado di Mettiamola in positivo Se alleni la tua capacità di ascoltare fuori È una cosa che ti porti dentro Non è molto speciale La relazione che hai col cliente La relazione è la cosa più importante in psicoterapia La relazione è la cosa più importante in qualunque professione Ok, sì Quindi allenati ad ascoltare Non metterti a dare i tuoi giudizi Le tue categorizzazioni Ascolta Bello Che non è… Grazie gente A te Grazie Grazie